Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di skin care, ma non di skin care in generale, per sì di una realtà, di una proposta italiana, secondo me molto bella, che poi non è solo skin care, ma è anche make up. Oggi in particolare parliamo della skin care, e sto parlando di My Beauty Web. Vi ricordate che l'anno scorso vi parlai di My Beauty Web in relazione a Isadora, a marchio make up, che a me continua a piacere tanto, e vedremo presto insieme delle novità? Ma oggi parliamo di quello che secondo me rende My Beauty Web una proposta di totale innovazione in Italia. Perché? Perché parlando con l'azienda mi sono resa conto che io stessa non avevo mai veicolato il concetto della realtà commerciale così com'è. Se no può sembrare uno shop normale che vende marchi di lusso e non... In realtà è molto vantaggioso, oltre che molto professionale. Veniamo al subito. Dunque, su My Beauty Web è possibile farsi fare la skin analyzing. Cioè, potete avere una routine consigliata da un team di professionisti. Perché? Perché My Beauty Web non è soltanto una realtà di rivendita, ma è un'azienda produttrice. Loro sono gli produttori di eye care, che è la loro linea cosmetica, ma producono anche altri brand molto famosi di cosmesi di lusso. Quindi parliamo di un brand che ha all'interno, proprio nel proprio organico, una serie di esperti, tra i quali beauty specialist, cosmetologi, chimici... Ecco, sono riusciti a creare una relazione tra il team che lavora il cosmetico e lo shop... scusate, io le suonerei, e lo shop per far sì che l'utenza possa non soltanto acquistare il prodotto, ma poter scegliere il prodotto effettivamente sulla base di una consulenza fatta da un team di professionisti. Ovviamente la prima domanda che io mi sono fatta è, e tutto ciò quanto costa? Niente! Perché è gratis! E la cosa importante, sulla quale ci tengo a sottolineare, è che non è che facendo la skin analyzing uno è obbligato ad acquistare niente. Cioè ti viene fatta sulla base di una serie di domande, eccetera, che vengono richieste durante appunto la skin analyzing, e si prendono qualche giorno per elaborare tutte le risposte, dopodiché ti viene inviata via mail il tuo skin check. Io me la sono fatta fare, ovviamente, sono andata sul sito come tutte voi, e mi sono state date una serie di indicazioni. Ovviamente l'analisi skin prevede tutto, dalla detersione alla skin care routine, alla skin care routine integrativa, poi una persona sceglie e integra. Un'altra cosa che mi piace molto è che non tiene conto del costo prodotto, nel senso, spesso quando noi ci troviamo di fronte a una commessa in profumeria, l'obiezione prezzo ce l'ha. Involontariamente, quando siamo nell'ambito del commercio, si tendono a farci i conti addosso, come è vestita, che borsa indossa, quanto potrà spendere, è giovane, allora non può spendere. In realtà lì no, semplicemente ti viene detto a livello di principio attivo, inci, composizione, esigenze, quello che è perfetto per te. Punto, a prescindere da quanto costa. Veniamo a quello che fa parte delle cose che mi sono state consigliate. Innanzitutto, pelle, la mia è una pelle, lo sapete, particolarmente reattiva, ma comunque nella fascia dei 30 anni, quindi ho già voglia di un primo anti-age un po' più strutturato. Mi hanno consigliato come detersione per i con MD, la linea, sapete che è una linea cosmeceutica, quindi una fusion tra la cosmesia e la farmaceutica, una cosmetica un po' più d'avanguardia, un po' più di ricerca. In particolar modo, la linea Blue Plasma Cleansing Treatment. È un trattamento dual cleansing, a che strucca e rimuove le impurità, che non prevede risciacco. È fatto in questo modo, che è bellissimo, tra l'altro. Ha una serie di azioni, tra l'altro, Hydro Fusion, che serve per mantenere le riserve d'acqua in superficie, quindi non alterare il film idrolipidico. Abbiamo il Micro Traps, che serve per purificare i pori e liftare, appunto, e poi abbiamo un complesso che si chiama Bio Specific Cleansing, che serve per andare in modo targettizzato ad eliminare le impurità, senza aggredire, appunto, gli oli naturali della pelle. Mi ha incuriosito moltissimo questa linea, e non escludo di provare altre referenze della linea Blue Plasma. Dunque, poi, CBN. CBN, tra l'altro, CBN e Starline. Sono due marchi rivenduti su My Beauty Web, e tra l'altro, secondo me, siamo nell'eccellenza della cosmesi. Io mi ricordo mia mamma usava la maschera di Starline già 20 anni fa. Io me la trovavo sempre in bagno, da quando ero piccola. Oh, intanto gliela rubavo anche. In particolar modo, mi è stato consigliato, nella mia analisi skin, CBN, e la crema, che è una crema 24 ore, Bio Germinal Intensive. Allora, la linea CBN è una linea a base di, sono trattamenti a base di cellule germinali vegetali attive. È un trattamento giorno-notte ad alta concentrazione di cellule germinali vegetali attive potenziate, quindi potrebbe essere paragonabile a un siero in termini di efficienza e di quantitativo di principio attivo. è dato alle pelli segnate dal tempo, ma più che altro ha un'azione estremamente rigenerante dei tessuti. Cosa molto interessante è che aumenta l'attività delle sirtuine, accrescendo nella longevità, e ripara il DNA cellulare danneggiato, preservandone il genoma. Combatte poi ovviamente la senescenza cellulare dei fibroblasti, quindi abbiamo più un accrescimento della produzione di collagene e di sintesi proteica. Secondo me è un prodotto molto molto interessante, si applica appunto mattina e sera, ha anche il suo siero, ma secondo me è un prodotto così completo, così com'è. Non so se vi ricordate, anni fa vi parlai della CBN 101, credo che sia, se non sbaglio, ancora l'unica crema al mondo con 101 principi attivi, e prima o poi, quando potrò, me la regalerò. Il pack è così, secondo me CBN fa sempre dei pack molto eleganti, la distribuzione appunto è di Sirpea, sono 50 ml. Poi, cosa interessante da dirvi, chi ha visto il mio post su Instagram, saprà che vi ho fotografato una crema di Starline, con un device abbinato. Sto parlando del kit che si chiama Lifting Cream Face Plus Beauty Machine. Questo solitamente è un kit in vendita, se non sbaglio costa 49,90 euro, ma per tutto il mese di dicembre, è in omaggio gratuitamente, con tutti gli ordini dagli 80 euro in su, il che vuol dire che ci viene dato in omaggio, e contiene la Beauty Machine, più il tubo da 30 ml di prodotto. Allora, è uno strumento high-tech mini compatto dal design ergonomico, ha un sistema sensoriale d'accensione, tale per cui, se io faccio così non fa niente, e se io tocco col dito e a contatto con la pelle, si attiva. Vedete, se io faccio solo così non fa niente. Ci ho messo la pila, la pila non è contenuta qua interamente. Dunque, appunto, si accende autonomamente quando viene a contatto con la pelle del viso, e aiuta a combattere borse e occhiai, e distendere i piccoli segni di espressione intorno a occhi, bocca, naso e fronte. Sfrutta il principio delle iono-microvibrazioni. E cosa serve? Aiuta a veicolare in maggior profondità i principi attivi contenuti nel trattamento. E qui veniamo al prodotto di trattamento. Sono 30 ml. Innanzitutto, questo device si utilizza due o tre volte alla settimana, 5-10 minuti, per stimolare la pelle e la maggior penetravità del principio attivo. Abbiamo l'immagine che ci indica anche la Gestuel per l'applicazione del prodotto. La crema lifting, invece, è un trattamento che ovviamente va a lavorare su segni e rughe d'espressione causati in particolar modo dalla mimica facciale. Tipo il mio. e lavora appunto per lisciare e rendere più morbida la pelle per avere un effetto il più teso. E adatto a tutte le pelli, si applica mattino e sera su viso, fronte, contorno occhi e contorno labbra. E poi si procede con la Beauty Machine. Ovviamente, una volta terminato questo prodotto, comunque lo utilizziamo per veicolare maggiormente il nostro cosmetico. E questo è in omaggio. Veniamo poi all'informazione che vi ho dato per quanto riguarda i buoni acquisti. perché vi ho scritto un descrittivo su Instagram che ovviamente vi ha incuriosito, no? Perché vi ho detto My Beauty Web ha una caratteristica molto importante che è quella di avere il 20% di sconto su tutto il catalogo tutto l'anno e tramite i buoni acquisto. Che cosa sono i buoni acquisto? Allora, è un sistema che cerco di spiegarvi rapidamente ma in modo efficace. I buoni acquisto non sono altro che un sistema di ricompensa per il cliente. Ovviamente noi accumuliamo buoni acquisto quando acquistiamo ma perché abbiamo sempre il 20? Perché nel momento in cui noi ci registriamo la prima volta su My Beauty Web ci vengono dati in omaggio 50 euro di buoni acquisti che sono 50 euro effettivi. L'unica cosa, l'unica condizione per utilizzarli è che noi potiamo utilizzare i buoni acquisto per massimo il 20% di ogni carrello. Cioè, se io ho i miei 50 euro di benvenuto di iscrizione di buoni acquisto e faccio un carrello e spendo 100 euro posso usare 20 euro di buoni acquisto per scontarmelo e quindi andare ad pagare il carrello 80 euro. Cosa importantissima il regalo viene considerato 80 euro anche utilizzando i buoni acquisto quindi effettivamente lo avete spendendo il 20% in meno. Spero di essermi spiegate che sia chiaro. Come facciamo invece a guadagnare i buoni acquisto? il rapporto è 10 a 1 cioè ogni 10 euro che spendo mi viene dato un buon acquisto un buon euro di in buoni acquisto. Ogni volta che noi se voi appena aprite l'account su My Beauty Web io ovviamente ce l'ho vi vedete immediatamente il saldo dei vostri buoni acquisto e mano a mano il saldo che si aggiorna con i vostri acquisti. Ogni volta potete scontarvi il 20% di tutto il carrello. Penso che sia piuttosto semplice. La cosa interessante è che non dovete far voi questi calcoli fa tutto in automatico il sito quindi voi avete già il calcolo il prezzo scontato e quanti il massimo di buoni acquisti che potete usare su quel carrello. Quindi secondo me è un sistema super intelligente e soprattutto se date un'occhiata al sito vedrete che brand rivendono perché abbiamo appunto come dicevo CBN Starline Pericone Isadora Glow Minerals ma abbiamo anche Chanel Barbary Dior quindi noi possiamo avere accesso alla cosmesi di lusso sempre al 20% di sconto. Io credo che sia una roba geniale e quindi quando mi hanno detto Giulia ma perché non racconti alle tue scritte la realtà My Beauty Web l'ho fatto super volentieri perché secondo me quando si può risparmiare avere un servizio veloce e efficiente la consulenza dei professionisti in modo gratuito oppure gli omaggi carini io dico sempre sì io spero di essere stata utile fatemi sapere se avete mai comprato su My Beauty Web se vi piace come realtà se vi piacciono i brand a me ovviamente molto e sappiate che molto presto arriverà non so quanto presto ma arriverà un video con My Beauty Web su un bel look un bacione